Vai! Si va agli ordini dello starter, seconda corsa premio Brasildo, AMDK e OGR, tutto è pronto a capire. Caio Duilio dall'esterno, Santo di Padova, all'interno City Napoli, allo steccato c'è Ocriticum, ma è Santo di Padova, che va davanti con all'esterno Caio Duilio, terzo in corda City Napoli con di fuori Nunnale ed in coda Ocriticum. Caio Duilio accompagna Santo di Padova, i due hanno fatto però parziale, abbastanza svelto, con Caio che tende a passare, però non completa ancora il sorpasso, Nunnale in terza posizione e precede City Napoli in corda, poi Ocriticum. Sulla curva Caio Duilio sfonda su Santo di Padova, Nunnale, City Napoli ed in coda Ocriticum. Con Santo di Padova che prova a riaffacciarsi ai lati di Caio Duilio, in terza Nunnale, in quarta Ocriticum, in corda City Napoli. Addirittura Caio Duilio prova ad allungare da Santo di Padova, all'esterno si presenta Nunnale, che in due tempi di galoppo è predominante, City Napoli è indietro, non è della partita, all'esterno prova alla rincorsa a Ocriticum, spariscono Santo di Padova e Caio Duilio. Nunnale si avvantaggia nettamente, prende molto vantaggio a Ocriticum, lo lascia ad una categoria. Nunnale fa un canter, suo criticum e poi per la terza, forse City Napoli, ma è tutto da rivedere. Avvito Filippo Orti per Jacopo Bindi, l'accoppiata tutta Bindi. vince Nunnale i colori di Fabio Rossini, 7 e 22 al tot, nazionale. Per il momento dalla postazione centrale è tutto.